Florella e che ci fai qua? Oh bello come stai tutto a posto? Oh regà, lui è il mio cugino Claudio Ranieri. Allenatore di calcio come no? Trionfatore nel 2016 con il Leicester in Premier League. Ah non sapevo, complimenti. Complimenti di cosa? Deficiente. Ma può essere Claudio Ranieri, è giovane, è per giocare no? Senti, invece c'è Massimo come sta? Massimo Ranieri come no? Diciamo che in questo momento è impegnato in una lunga vacanza. Sei anni e tre mesi per esattezza. Capito. Comunque Claudio è laureato in storia. No, 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 scienze storiche se permette di questo. Ho anche scritto un saggio sulla seconda guerra mondiale di grande qualità. E di scarsissimo successo commerciale. Sì, però sulla seconda guerra mondiale... Esattamente, infatti a tal proposito tu sai che noi fanno viaggi nel tempo, no? Noi ti vorremmo proporre un lavoro. Ah, sì? Sì, eh. Potresti chiedere qualche giorno di permesso? Sì, eh.